Bene ragazzi, ciao sono una ragazzina, mi piace lo stile grafico, molto carino, però ho molte riserve, molte riserve, parlo con questo qua che c'ha i corn Non hai open up il do Dito di golem L'ho presa sta missione, però non l'hai ancora fatta Non ho ancora i requisiti Lì c'è un forziere che io non ho aperto Dov'è? Là in fondo, giusto in fondo alla strada Uff c'è un forziere con un cuoricino Perché non l'ho aperto? Ah perché richiede... ok La chiave d'argento La chiave d'argento Commetto che si compra la chiave d'argento I don't know, I don't know Onda quanto è cattivo È ben protetto dalle tue scorribande Onda guarda guarda è cattivissimo Guarda lì Non ti permette di fare... Non vuole che io mi metta in testa le persone Qualcuno ha distrutto Tempel Tempel, io non ti giuro Io la cosa che adoro di più è il dialogo Quanto sono belli perché li puoi schippare tutti E ti fanno un riassuntino di due righe Loro parlano per tre ore Io come meno Qua questo è un... Mi sai che ti puoi... Ho la X, prova No No, non puoi menare? Salto soltanto Mi butto di qua Qualcuno che ti fa provare gli attacchi Non posso... Vabbè comunque gli attacchi leggeri si fanno col quadrato Vabbè allora usciamo fuori dalla città Dove si mena? Devi andare in missione Vado Fuori dalla città Devi andare fuori... Questo è un altro Taglio Prendilo Vedi? Io mi sono girato un po' la città Per prendere queste puttanate Ma non... Prendo Non le ho prese tutte Niente È proprio Uber... È protetto È protetto Uber castrato Questo lo devo prendere? Sì E qua puoi andare a prenderti le missioni Episodio del destino Allora questa è una cosa tremenda Perché qua ti fa salire di livello Ma per salire di... Fallo Vai vai Destino aggiornato Vai su Destino aggiornato Guardare questo episodio del destino? Ma che è? Una telenovela Vai vai Custodio di Liria Pensi che i miniceli Non possono... Fin quando non approfondire No, schippa Per l'amor di Dio Catalina Secondo te Da dove arriva questa brezza? Mentre Liria parlava Il vento le scompigliava Dolcemente i capelli Ma che è? Un harmony? Sì Vai avanti Schippa Un luogo molto lontano Era trascorso parecchio tempo Da quando io e Liria Eravamo fuggiti Minchia Mi vuoi uccidere? Vai con la X Schippa con la X Vai vai Adesso guarda Siccome ti sei rotti i coglioni Ti ricompensano con un boost di attacco E di punto Ah vabbè però puoi schippare Esatto Io ho fatto un sacco di queste cose qua Ma se dico no Sono cresciuto molto E così si fa Ti becchi tutta sta rottura di cazzo E sali lì Porca troia Ah 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 Cioè ti immagino schipparla sta roba qua No E vuoi ammazzare Però vedi stai schillando Però se funziona No E vabbè non lo fai Però se non lo fai non ti pigli Capito? È un po' un giochino che fanno con la tua mente Ma non si può No Ma vedi che Tutti li devi vedere Di tutti i personaggi Tutti i personaggi Per la madonna Sì E puoi stare di livello con loro Tra l'altro c'è anche un personaggio undicenne Nel mio party Cioè tu devi mettere a fare così Guarda Adesso guadagni punti attacco Ma c'è qualcosa che qualcuno te lo fa per te Ma questi non hai fatto niente Non ne hai fatto No no Ho fatto tanto quelli del personaggio principale Però a un certo punto Dopo aver ascoltato mille dialoghi È partita una missione attiva Occhi del cuo No è terribile Purtroppo questa cosa qua è Vabbè ma qui è per spiegarti la storia ovviamente Però ti ricompensano Perché lo sanno che è pesante No ho capito Però potrei Ma come pure di tanto Sì Ma quindi lo devi fare per tutti quanti Io credo di sì Non lo so Madonna Madonna Ma siamo pazzi Però sali molto Capito Migliori Ottocento e tanti Sì ma tu sei pazzo Madonna Non mi hai dato a me per fare sta cosa No vabbè Facciamoci una missione normale Madonna Madonna Allora vai su Affronta missione Ah ma perché questa è Lei è quella Allora queste sono le secondarie Se vai al porto Perché qui le navi volano Per difficoltà Facile Per tipo Boss Necessita Per chi necessita di tesoro Oh facciamo un boss Boss con reward Non le ho mai fatte queste di boss Ho fatto soltanto quelle facili Questa è bella Questa mi piace È facile questo È facile Dove Ah sopra Piccolino Premi il quadrato Quando sei pronto per partire E vai Sono pronto Partenza per la missione Bene È molto monster hunter lab Allora che figo Allora Attacco leggero Attacco pesante Che puoi anche caricarlo Sì X salto L'hai capito Il cerchio Lo devi premere Quando ti esce scritto Di premere il cerchio Che fai un attacco Insieme agli altri Le abilità si fanno Con R1 Come detto che si chiama Sto il gioco Grand Blue Fantasy Relink Perfetto Ma così non lo scarico Perché Aumento di potenza Allora se lo vuoi loccare È il grilletto di sinistra Ovviamente Quanto Per schivare Grilletto di destra Non mi serve schivare Posso solo piccarlo Vado Premi Bravo La parata si fa Con LB Quindi il dorsale Di sinistro E se schivi A tempo Se fai la schivata Perfetta Ma perché Così rigoglionito Questo Perché ha Grado R1 Abilità Sì Premi R1 E poi usi Una delle quattro Che è disponibile Là Capito? Questo Esatto Per esempio Ti ne hai prenduto Quello e premio il quadrato Ti fa un'abilità Ma sempre se Non rompe Finisci di rompere i coglioni Ti le hai prenduto qua Te Eh ma devi Eh questo Ti sei curato Eh però Ma ne avevo Triangolo Se ne fa Una Esatto Va Finito Tanto il cooldown È abbastanza rapido Brack Non ce l'ho capito Ce l'ho capito Ce l'ho con Lancillotto Via Non ce l'ho capito Non ce l'ho capito Non ce l'ho capito Non ce l'ho capito Curo pure il mostro Curo tutto Guerriero Goblin È veramente una merda Tu Però intanto Però è stupido Non è una merda Se si è bloccato Con la banchigia Vado Uovo dal primo colpo Ben assestato T'ha fatto pure abbastanza male Occhio Per curarti Freccia Sei mua Vieni vieni Però tu non scrivi No Non ho ancora capito Però R Il grilletto di testa Si scrive Me ne vado Me ne vado Pozione rapida Non è così rapida Rianimante Non rapida Ho sfondato Sono troppo bravo Non mi piace Stai giocando malissimo Non scrivi Non pari Non serve Sei morto Sì Sono morto Ma c'ho la squadra Se no a che serve la squadra Scusami È fatta a forza Diciamo che dove sono arrivato Si muore Molto facilmente E La squadra Sì È fatta di coglioni Online Non ho ancora giocato Non ho ancora giocato online Questi sono Bottissimi Però ho notato che Quando c'è un Oggetto rialzato È la vittoria in pugno Perché un nemico Potrebbe piantarcisi contro Molto easy E fare il coglione Guarda quante cose Ti ho sbloccato Guarda Ho fatto pure A S A S l'ho fatto Non avevo mai fatto un boss Potevo fare S++ Anche Ah no Ho fatto S++ Vedi Cioè Mi dici pure male Ma mi deve essere più Quando mai Pià dovesse più tu Io non lo so Mai Perché non mi sei mai Baggato un nemico Hai completato l'analisi Dei risultati della missione Sì Potevi schippare molto prima In realtà Vabbè Ma io volevo capire Allora Fatti la missione principale Sei pronto No Mò vi faccio L'altro boss Dovesse mai servirti Altre cose No Ma ora dove Guardo il destino No No Non devi farlo Per forza Ma sì che lo devi fare Sì Però Voglio dire Ma che cazzo dici Lo devi fare Puoi fare anche Delle missioni Normale Lo devi fare Eh Guarda che bello È proprio scammato a Geo alligatore Geo alligatore Il mostrante è scammato Questo Ma no Ci sono dei scamm Trementi al mostrante Rocco tu che hai giocato A mostrante Addigliano un attimo Ma scommetti È molto diverso Però la ricorda Sì sì Però lo stico Attacco legame L'ho legato L'ho legato Vado in furia Lo faccio secco Alzi l'attacco di tutti Però non è un attacco tuo No Mi sono ricaricato Mentre mi venava Questo è Perché io Questo non mi fa male Invece Però solamente la musica Ricorda un misto Tra Final Fantasy E Monster Hunter Oh vabbè A me Me lo ricorda tanto Allora Però se tu adesso Prendessi in mano Monster Hunter Ti renderesti conto Sì Non è Vabbè Un breccato di nuovo Cioè oltre a sta penderra Questo sta per te Ti rendesti conto Che qua dai dei colpi Lì li richiedi Gentilmente con A un moglio Diverso L'abbiamo ammazzato Eh perché questi sono i primi Io non l'avevo mai fatto Il boss Di Delle secondarie Capite Se non mi da S++ Adesso Da per forza L'ho fatto una Potrebbe non dartelo Per lo stile Ma Per lo stile Lasciamolo agli altri No lo so Forse Devil May Cry Ti avrebbe dato tre Devil May Cry È veramente Bastardo Scheggia di terra Che ti serve Scheggia di terra Eh sono materiali Per migliorare le armi Per fare cose C'è il fabbro Però Al momento ho maxato tutto Non credo di avere Già i materiali Per maxare ancora Soltare questa scena Certo Io non ho guardato Vediamo Vediamo S S Contiamo 59 secondi E meno di 60 Lo ricordiamo A casa Quelli che stanno Contare di meno Impeccabile Scacco matto Occhio di falco Ostinazione S++ Bravo S++ Bravo La prima volta In gioco Tata Ebbè Fatto S++ Che ti dà Con S++ Però Eh niente Cose di merda Sostanzialmente Perché sennò le Ripete la missione Ma che sei scemo Hai completato La mia esistica No se è una missione Non la fai in S O in A La ripeti In pensiero per papà Sola scritto In pensiero per il papà Compi svarate imprese Durante il viaggio Per ottenere Scintillanti trofei Vabbè Possiamo andare Basta Se vuoi salire Un altro po' A leggere dei romanzi Eh perché guarda Che la principale Non è così semplice Anzi La te li impara A schivare Perché sennò Un colpo muori La fatta del destino Oh bravo Lui mi piace Come personale Però Però è Cattiveria Vero? Vero che è bastardata? Cioè Cioè sì magari Per quella a cui vi piace Però metti Vuoi leggere Delle cose inutili? Sì no? Ma te l'ho dato il premio? Eh boh O l'hai schippato No Questa è un'altra visualizzazione Sono talmente veloci ormai Che Poi sono sempre più lunghe Fino a che Se ne guardi tante Arrivi a fare una missione vera Perché? Ah forse perché È l'ultimo step Eh penso A me quello Mi è successo Facendolo con lei Rocco sta soffrendo Perché Stiamo giocando In maniera Non proprio legge Perché Io non ti sono interessato Alla storia Non ti giochiamo Ma nessuno Allora Io mi sono disinteressato Alla storia Dopo 40 secondi Dall'inizio Quando mi hanno detto Che il capitano Di sta nave Ha 15 anni Mi hanno detto Dovete andare a fare in culo Ecco ecco la missione Tu l'avresti accettata Questa cosa Rocco Nella ciurma C'ha una di 11 anni E vabbè C'è E ah forza Avvia missione Pronto Capito Dopo un tot Ti dà la missione Questa è single player La missione E ora Giochi con lui A capo del gruppo È single player No no Ci sono anche gli altri Ci sono Però Usi lui Perché tu puoi scegliere Chi del party usare tu Sì mi sto concentrando a leggere Sì sì lo so Questo non l'ho mai usato Vuoi usarlo? No provalo tu Vedi un po' Infatti ti spiega le cose Eh no dai cazzo Leggi Sì tre tasti so Che devo leggere? Eh ma Non è più complicato Di così Le combo sono diverse Sono diverse Pure le pressioni lunghe Dovrò recuperarmi Questo gameplay Se voglio sapere Cosa fa lui Credo Cazzi tu hai Me l'avessi in mano Tu ho detto Vuoi giocare? Prenditi un minimo Di calma Per fare le cose Nella vita Vuoi giocare? Tu che cosa Mi hai detto? No Perché pensavo Che lo giocassi Come un essere umano Troppo bravo Guarda Guarda Che cazzo È stato a sapere Oh guarda qui Bravo bravissimo Quando vedi una sporgenza Tu Spara la sporgenza Beh se non hai linea di tiro Tu non giustificare Solo perché ti piace il gioco Io non sto giustificando Almeno non si tirano dati Per fare ogni cazzo di cosa E comunque I dati li tiri Anche se non si vedono Lì nessuno avrebbe Il critico È semplicemente Un dato che rolla Ma tu non lo vedi Però sul 40 ore di gameplay Perdi 6 ore a guardare Ma non è vero Ma non c'hai mai giocato Dai Guarda Rocco Che lo guarda con gli occhi Di un essere umano normale Non ricacchi pure Se tanto non fa come ti Non è vero Non è vero Non è vero che ci passi Tutto sto tempo A che sto sparando Eh se non l'occhi Però comunque a lui Ma ti faccio vedere Ma questo spara proprio Sì sì Questo spara Però è Se tieni premuto Il quadrato Dove succede? Niente Triangolo Esplosione E' il bersaglio No Il quadrato Quello spara e basta Spara Un po' Nient'altro Triangolo Esplosione E' il bersaglio Ma non ho ancora capito Eh devi loccare Penso Ma li stanno roccati E' un bene Non fa un caso Fa quella cosa là Forse ti sta vicino Non lo so Però questo si è messo Alla linea di tiro Ma sto giustamente davanti Sì lui Praticamente Quello del triangolo Fa quello? No R2 Ah sì La schia la tocca Perché ce n'è un altro Perché se fai l'attacco Guarda faccio così Questa è la sua abilità Ma secondo me Non l'hai Non l'hai schilato Per niente questa Io non ci ho mai giocato Con lui Io ho giocato Con l'altro pistolero Non con lui Eh perché fa Fa veramente un cazzo Lui di livello Fai Fa tipo L'esplosione Questa cosa Questa è la Il triangolo No Attacco aereo E triangolo Altrimenti la terra Fa l'attacco Questo qua Che non ho capito Eh questo è vista vicino O devi caricarlo magari Però a caricarlo Troppo tardi Ma butando questa è missione Espe Questo Ah questo L'amo difende Sì 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 A posto Comunque vedi Sono stato troppo bravo Dopo che ti rompi i coglioni Un tot a leggere quelle porcate Una missione vera te la fa fare Ma perché Che cosa ti dà Nella missione Forse ti fa rivivere Un'esperienza Di un Non lo so Perché io non ho letto una parola Secondo me ti fa rivivere Una delle esperienze Andato il background Degli personaggi Sì sì È tutto bigiless Beh ma in cura mamita però eh È tutto Baldur's Gate Episodio del destino Questa c'ha 11 anni Quindi penso che la storia Parta dall'asilo Perché Se non mi avesse salvata Il panico Cercavo qualcosa C'ho solo 11 anni Ma so già che cos'è la vita Mamma mia Questa c'ha la corteccia Prefrontale E voi gli danno un bastone Così lungo Lo sai che dopo Non ti si sviluppa più Perché pesa Non gli si alza lo saluto Esatto Questa faceva schifo però eh Che fa questa Ma non l'ho mai usata Lei Ho capito che non l'hai mai usata Stai nel tuo party Le devi schillare le persone Che cazzo lo tiene a fare un party Se non ti culi tutti quanti Ma io ho scelto quelli Che mi piacciono di più Ma non gioca così Nei party Ma c'ha 11 anni Ma che se le stesse a casa giocava Ma perché Ma cambia personaggio Allora Andata a giocare con le bam Ma me l'hanno dato di default Secondo te Mi sceglievo La cuginetta Finito tutto Tranne questo Questo l'ha fatto Anche se questo è pesante Ho dovuto Ho ucciso La mamma Le spadone nero Quindi più li fai giocare Più aumentano le parole Le statistiche non vanno avanti Se non vuoi stare a rompamento da cazza No no ho capito Però No non hai capito Io Spari almeno 100 in più adesso Te l'ho detto io che funziona così Però me l'ho rotto il cazzo Ho capito Ma lo devi fare Cioè che cazzo di giocatore sei Uno che si vuole divertire Non è divertente Non ti diverti Se ci metti 6 ore a fare un mostro A sparare con la stessa cazzo di arma Però guarda che rottura di coglione Hai ragione Però rimane il fatto che non va bene così Cioè Rocco non è d'accordo con noi Voi mi raccomando Se siete interessata la storia Mettete pausa Che su YouTube lo potete fare Guarda 932 Cioè capito Ho iniziato che Se lo chiamiamo Tutorial come non si gioca un JRPG Ma questo fatto A sto modo è la prima volta che lo vedo Pure io È molto buon idrico Però ti rincompensano Per il tempo che butti Basta? Vai 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 Questa è una missione Lui è molto bello Lui è molto bello No a me non è il mio tipo No è molto bello come personaggio Questo è il mio tipo Il bambino da 5 anni A me piacciono le veste qua Con le orecchie da cervo Non ci posso fare niente Sono molto sexy Devi stare attento a cosa ti vedi Perché è in Stavola Su Netflix Che secondo me La prossima stagione Arrivano adolescenti Tu la imbazzisci Come si chiama? Ah Sweet Tooth Sweet Tooth Eh mo sta la stagione Adolescenza Capito? Beh Tra l'altro Il ragazzetto sarà Ormai ci andrà fatto Lo sviluppo nel frattempo C'è un po' Mola d'amo Come un ginocchio Ormai Ho capito Però Non è che devo Spadare per forza Dove devo andare Capito? Tu se ti fossi interessato Della storia Cosa che non hai fatto Ovviamente Peccato perché è così carina Avrei capito Come mai il capitano di Stavola Guarda là Gli ho sfondati con un colpo solo Gli ho sfondati Eh beh Senza sapermi da genna scrivere Perché questa è la sua storia Di background Lui sta affrontando Il suo passato Con l'energia del presente Questo è il migliore Fa un botto di male E tu non hai ancora provato Il cecchino Che se tieni premuto Quadrato Vai in mira Da certino Fa un male di Dio Ho sbagliato Eh no Risali Non mi potete sparare In goglianini Però ti mirano Loro ci credono Arrivo eh Mi raccomando Bravissimi Faccio Questo A chi gli hai regalato A nessuno Sta livellando Sono pacifista No Vuol dire Non finisce male Ho capito Ma fatemi Lo capore a me Tu te ne fai in giro Hai messo una granata Per terra Ma poi scoppia da sola Se tieni premuto Il tasto della granata Ti fa fare la parabola Per tirargliela Proprio di precisione Stessa cosa Con il quadrato Se tieni premuto Fai il tiro da cecchino Ma io non so Dove stanno gli altri Non mi chassano Ma c'è tanto di Ma non muori Ok Che cazzo è questo? Sono combelli Avete sentito anche voi? Vaffanculo Ok ci sta L'uomo ratto Guarda Guarda che gli faccio Poi gli faccio Gli faccio così Hai capito? E la prossima volta Non mi è ben chiaro No Bene Bravo Te ne esci tu Ah non l'hai fatta Pensavo avessi fatto Tutti morti Sono bravissimo Torniamo in città Ha detto il drago Di merda Ti butto una granata Arriva Esplosioni sono finissime Ma che te lo fa? Mo' devo ritornare in città Ma ste missioni qua Sono piccole Devo dire Quella della protagonista È durata un po' di più Ma secondo me È solo perché Tu ti illudi Di dove schivare Non ti schiva In questo gioco No Va e vai Va e fa la principale Mo' arrivo Mo' arrivo Sto facendo le cose Che mi hai mai richiesto Solo perché Ma non te l'ho chiesto Lo slot ti serve Ha detto Vai perché Se no non ce la farai mai Io in questo modo Devo vedere tutto il destino Ma non perché dovevi livellare Sto vedendo il destino Mi sto appassionando Ma non perché dovevi livellare Eppure indelebili Ho detto Fatti le secondare Così capisci come si gioca Ma più di così Questo è dicendo Ma chi c'hai nel party Eh Questa è inutile E questa non mi piace Non ho capito Ma le devi schillare le persone È sempre stato a scatto 600 fa 600 Che ci fa con 600 600 che è una tariffa Rosetta si chiama Appunto Cioè si chiama come un panino Ma me la posso mettere nel party Eccato Quando il suo viaggio giunse Non c'era dubbio Era sua figlia Mi sarei unita La giovane giurba Lì ci affondavano il passato E certo era consapevole Della realtà La mia presenza E la madonna Che rottura di cazzo E basta Che palle Non si può prendere sul serio Ragazzi ma voi non sapete giocare No Non voglio saper giocare Va bene Completo 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 Opposto Hai fatto tutto Adesso Penso che si aggiungeranno altre cose Adesso Se ti vuoi ricreare Bisogna No Lasciami Però se posso scegliere Scegli tu quel cazzo che vuoi Però Gruppo Missione secondaria Con segno Tornare al cliente Si Si fa pure Ma questo è bello Ma questo è molto figo Missione secondaria Con segno Ben ti sto facendo pure le missioni Bravo Non si fa Non si lasciano le cose Sto speso Guarda Con segno Si Tornare Quando è compulsivo Non vedo niente Di quello che stai facendo E perché si gioca così questi giochi Ma non è vero Diario di Liria Questi giochi si giocano Oh no Capendo la storia Punti di viaggio Nemici Oh mamma no Trofeo No no Mi interessa Sfugliare no No questo non ci entrare mai nel diario di Liria Oggetti Questi sono gli oggetti Tesori Vedi se il Vedi se il fabbro ti può comprare qualche arma Secondo me abbiamo preso un po' di pietre Pietro Allora impostazioni co-op Si può giocare in co-op Lo sai Sì sì lo so Dovrò giocarci con Ferrier Però lei è livello 100 Penso anche Split screen No non credo Competenze Allora dovrei aver sbloccato delle competenze nuove Hai 70 punti Da investire 70 punti Tu non ti sei portato avanti nessuno di questi Sì Quelli che mi piacciono Ma sono nel tuo party E che cazzo me li frega a me Io me li porto perché me li devo portare Dimmi che vuoi Danni d'abilità Vai vai pompami lei Pompami lei Pure un po' in difesa poi però Perché questo è tutto attacco Ma tanto c'hai 70 punti Questo è Incremento di danni C'ho 70 punti ma c'ho il party da 20 persone Quindi Guarda li sblocchi una cosa grossa sotto vai Giù giù Arts Che è? Non lo so Ti sale il livello delle Ma scusa ma non ci sta qualche Madonna Madonna Eh beh Questo devi arrivare a sbloccare Però non ti conviene sbloccare Eh vai Lancialo No pompami quell'altro Pompami quello col fucile Rosetta non c'ha niente Guarda Niente deve avere sta stronza Ma perché? Li devi sbloccare qualcosa Si chiama Rosetta Rosetta Ti dà la rosa qua Vedi effetti abilità Ti ricarica almeno Ma il mio per il personaggio principale Le rose possono pungere No raggiungere E queste sono le abilità che sblocchi No già glielo sblocchi Almeno questa tipo Questa qua Altre abilità Ti servono queste abilità Sì 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 No è vero Un minimo Questa c'ha un cazzo Guarda ma Ma niente Hai sbloccare Però tu la difesa Non la stai a pompare nessuno Ti fa tutto attacco E beh perché così si gioca Ti devo insegnare proprio tutto Eh no ci sta La difesa importa E conta molto Oh questo pompa tutto Fammi Oh sblocca Mi restabilità nuova Bravo Mi blocco pure questa? Sì Mi sa che non ce la faccio Esegui Perfetto Oh Tutti in difesa Avevi pompato Mai che non lo so Ma la difesa è importante Ti devo insegnare tutto Guarda Tu avevi giocato praticamente Soltanto in difesa Beh perché No l'hancelot è tutto sbloccato di per sé Perché l'ho acquistato il personaggio Con una carta che mi ha dato il mercante Ma perché puoi sbloccare? Ti danno delle carte Con cui puoi sbloccare Il personaggio che vuoi tu Ti danno una lista di personaggi E tu puoi usare quella carta Per comprarne uno che vuoi Non lo sblocchi Perfetto Ti ho alzato la difesa Anche a Rackham Come cazzo si chiama Ma questi qua sono uno Pure brutta Mi pare brutto non alzargli le cose Vai Fai una bella missione principale Ok Ho sbloccato tutto L'abilità Guarda che adesso C'hanno tutte le abilità nuove Adesso sono potentissimi Questo che c'ha? Cuori Fammi vedere Questa qua è nuova Lancia una granata Che infligge veleno E diminuisce difesa L'altro col cerchio Questo qua ancora sblocchi la quarta Almeno la quarta Ce la dobbiamo sbloccare Fammi vedere quella col cerchio Che fa di questo Di proiettili Una pioggia di proiettili Sono ampi aria Già ce l'avevi L'ho usata Già ce l'avevo? Sì Quanto cazzo sbloccava? Forse non l'ho mai usata Vedi queste Come se La sputa a fuoco Le abbiamo sbloccato Queste le devi sbloccare La base Questo già aveva un cazzo Ma tu ti rendi conto Sì avevo zero punti Ma come dici Io so giocare Non mi piace Quando hai iniziato a giocare tu? Io avevo un punto Tu ne hai sbloccato i 69 Facendo quelle missioni Io avevo già investito tutto Ma che bespo Io credo che Di averlo sbloccato Leggendo le costorie Sì anche No ma non solo Quella cosa blu Che hai trovato nel villaggio Anche quello ti dà un punto Speriamo Non so te lo devo sbloccare io Stecoma Ma tu come stai giocando a questo? Io sto giocando In maniera normale Io non lo so Ciao signore Come va la scopata per terra? Va bene A lei si diverte Si diverte Vedi però quanto è sessista questo gioco Perché? Perché chiaramente lei è una donna Sì E quindi? Vedi? L'uomo col bambino L'uomo discute di cose importanti La donna si sta occupando Di togliere la cacca di suo marito dal viaggio Dovete mandare? Perché sono uomini e animali Cagano per terra Non ci puoi fare niente Questo che è qua? Questo è il mercanto Scambio Vedi se c'è la carta Questo non ho capito se è un materiale per farci le armi Vedi al fabbro magari Ma queste Perché posso scambiarle? No non voglio scambiare niente Carta compagno Queste sono quelle che dicevi Eh però vedi Carta compagno 0 Non ne ho Però tutti questi Io li potrei prendere Se mi dessero una carta compagno E' praticamente che Inshin Impact su questo Sì Puoi sbloccare gente Però te la scegli Non è Allora Le commissioni Qua si possono scegliere le principali Vedi al fabbro un attimino Che secondo me Ha preso roba per potenziare armi Sta qua dietro Di qua di qua di qua Là Ciacobà Vedi il fabbro C'hanno pure il blocco le armi Devi rimuovere il blocco Come Potenza Risorse insufficienti Vedi che ci serve Orca puttana Costo potenziali I soldi ci servono Non è Piuma di grifone 0 su 1 Ma a quella velocità Sì ma La base Sui soldi Può prescindere che il resto I soldi Non c'hai una lira Che piangere Eh beh perché ho pompato già tutte Ma non è che vendendo Si fanno i soldi qua No perché non si vende a questo Tu non hai mai provato a vendere Vero Non c'è un cazzo da venderle A questo qua Ma come Lucci pietre 14.000 Eh ma io che cazzo Ne so se non mi servono Vendite solo Ma no Ma se È solo Quella è la base Saranno proprio Valore Tipo le anime Tu non c'hai manco Prova da clicca Questo non è un gioco Mi dispiace dirte Tutta lì Ma io sul diablo Ci gioco tranquillamente Eh sì ma questo qua È un po' coltre Secondo me Rimuove il livello massimo Eh questo toglie il blocco E togli il poverino Che sta ancora Col 59 E blocchi Tesoro insufficiente Ti servirà più Padigli di fuone Vabbè fai missione L'angelot Rimuori Questo qua Ce l'hai Rimuovi il limite Di chi è questa? Questo che devo fare? Eh qua puoi scegliere Quanti cose investire Per potenziare Perché se ne investi di più Lo potenzi di più Quindi investi le cose E poi scendi giù E fai potenza Ah palamadonna Ma tu stavi a livello 10 A questo non gli avevi Povero l'angelot Ma l'angelot Ma è normale Che trovavi difficoltà Mi stupiva Il fatto che tu Trovassi difficoltà È normalissimo Che tu riesca Ma io avevo finito Tutto Prima che iniziassi tu Che hai fatto quella roba All'altro Tu ti sei pillato 70 punti di abilità In 5 minuti Perché ti sei Sobbarcato Tutti i cosi Ti sono Questo non c'hai soldi Il problema è che Ma sono preoccupato Perché sono finite Le storie alle ad ascoltare Ma quelle Si bloccano Dici? Eh sì Il refini o standard Devi comprare Ma questo è quello Della 11 anni Non me ne frego un cazzo Ancora? Fa parte del tuo Fattuto coso Ma prima o poi La rimpiazzerò Non me la metto mai Nel party Guarda che il mio party È molto più largo Di quello che hai visto tu Non c'ho tre persone Ma secondo me sinceramente Eh Dici una 11 anni Ce la devo aprire Ma quella C'avrà qualche cosa Eh l'arma raggiunta Rimuovi il limite Sì E c'ha qualche cosa Che c'ha I dentini da latte A posto T'ho potenziato Almeno due A livello Questo quasi può Almeno porta Devi Cristallo della fermezza L'arma riceverà Molta più ESP Di quella richiesta No no Perché? Perché Io ho messo Quello di sotto Ah ok Quello di sotto Bomba molto di più E queste Non saranno sbloccate Perché ci manca Il refini Ma quello Lo trovi facile Vedi? No possiamo andare In battaglia Non prima Ma in balattia Potenzia sigilli Che sono i sigilli? Ah questi qui Eh sta merda qua Ma costa Sempre la piuma Di fringone Però che baramone Questo è uno di quei giochi là Per vedere se ci sta Il grande scheggio Non c'è un cazzo C'è il negozio È più di un merda Del mondo Questo qua Queste sono Un pacchetto bo Questo è una merda Ok possiamo andare Vai verso il porto Andiamo verso il porto turistico Ma non si può menare Non prima Ma che menavi prima Ripeti la missione Io schio Io schio Riprendimi se mi vengono Ah sì sì Perché è lunga È a capitoli Non è già Guarda sto sulla barchetta Non posso andare a vedere Tutte le volte Vi stai sulla barca Di solito ci sono Dei tesori da raccogliere Non ho capito Secondo quale Criterio Devo andare a parlare Con sto tizio Sì Ah guarda Questa è la cosa Che ti dicevo Salpa 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 Chi è Liria? Liria è una ragazza Con i capelli blu Che è stata rapita Sembra minorenne Però nelle informazioni personali C'è scritto Che non si sa Qual è la sua età Quindi è il solito Ah ho capito Quello che mi dicevi Che ti fa tre righe La nave Sì È bellissimo Cioè io la storia La so Però le tre righe Ma io so Le tre righe Dei dialog Cioè tipo Si sono incontrati E salutati Però Ti posso dire Che come stai giocando Non funziona molto bene Funziona molto bene No Non funziona molto bene Perché è normale Che tu quindi Pigli catoffie In faccia Non bombi gli altri personaggi Non c'è Non niente Gli altri personaggi Ti fanno danno e base Eh ma Io li ho pompati tutti Fin dove potevo Cioè ripeto Quando sei arrivato tu Lo sbloccati tutti quanti Non avevi un cazzo È normale che pigli bastonate Lo sardo Questa candela No 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 Via Cerchio Cerchio La ciurma E però Fa Quella Me la rifa leggere Non lo so La ciurma esegue Un atterraggio di fortuna Rependice del mondo Ma per quanto Frema di correre L'aiuto di Liria La minorenne forse La Grand Seifer Ha subito danni ingenti Affidate a Roland Le riparazioni Il gruppo Ok Sono tre volte Che gli sfondano La nava Questa che è Il salvataggio Vai salvo Si ricarica la vita Si salva E poi c'è pure il negozio Il fabbro Se ti dovessero servire le cose Ma che cazzo me lo fai vedere No è lo stesso negozio Del bambinetto in città Non cambia niente Ma questo qui La scheggia del vento Tipo torna utile questo Ma io che cazzo me lo so Ma almeno qualcuno Ce la devi tenere Vergine Questo È solo vergine Resistenza vertigine Perfetto Non so a che serve Salva Non lo avevo già salvato No Devi farlo manualmente 15 e 32 Io la so 15 e 32 Allora ok A posto Guarda che bello Che ti fa vedere la via Illuminandotela Dice guarda Oh no Andiamo 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 A picchiettar Pensavo che ti facevi Un party tuo Ti sceglievi Quelli che Ma mi dobbiamo Mette tempo A sistemarti le cose Che un dopo Non vuoi Che siano sistemati Alla maniera giusta E corre Ah può succedere Anche questo Beh Non so cosa è successo Onestamente Mi è caduto in faccia Una parete di pietra In che caso Schiva Quando vedi il rosso Schiva Oh i mostri di pietra E noi non abbiamo Un cazzo di arma Da fuoco Giusto Tranne uno solo Che i progressi Ma vengono Interruzioni Che bello Mamma mia E' vero Che è una svolta Schippi Ma c'è il riassuntino A Ruken L'ha detto Perché tutto questo casino Mottene Bravo Devi distruggere questi No Questi ci potevano tornare Ah Per chi andargli l'incontro Però non hanno piaciuto Il tingo I tuoi furbi compagni Se la sono preso in faccia Bravo Emo arriva Un'altra banda Di Di sgrulettati Questi qui Bollatelo Sto qua Però non mi piace Questo quando non serve Niente Questo qui Te verranno indietro Ci sarà un Un boss Eh penso di si Perché è la trama principale Mamma Questi qua Qualcuno Madonna che mi pili Quello di sotto Però A chi vuole dimina Eh Volevo vedere Ce ne stava un'altra Avanti No quelli sotto Eh no Non c'era nessuno Eh questo Non lo posso sapere Se non lo vedevo Madonna I salvataggi Stanno ogni 4 secondi Quasi L'altra parte Dove sono stato Erano un po' Più rari Ah boss Piccolo boss Questo è minorenne Posso saltare La sciurma trova il monastero Alla fine del ponte Mentre lo attraversa Il ponte viene distrutto Oh no Non ho visto Non ho visto La distruzione L'ha distrutto lei Eh Come fare a sapere La potentissima minorenne L'ordine Era di non ucciderli Questo li rallenterà appena Eh lo scontro con gallanza È stato molto duro Durato ben 10 minuti La sciurma trova il monastero Il ponte Sembra uguale Eh sì Oh un occhio Pinocchio Vedi che è tutto il boss È un bossetto Un bossetti Però i tasti Non mi piacciono Non lo sai Quei cazzo È l'U2 Di erra Credo non lo so Si può cambiare Buono Cerchio Ja No Eh dai Ma non si rompe Lo sto cercando di capire Comunque quello dietro a me È troppo divertente Lui sta facendo tutto un lavoro Via Bravo Bravissimo tu E basta Madonna che fastidio Questa cosa Che lock Fa così Vedi che ti stendi Quando fai così Sarebbe tipo Un break Eh sì E finora Non avevo mai avuto Roba Nella mappa Esatto Quindi due break Una di fila all'altra Ah la coppa casca luce Bravo Sicco sicco Ma comunque È veramente Cioè non è tecnico Come gioco No ma è giocabile Sì Molto giocabile Mi ricorda Vindictus Strano E porca troia Però sto fatto che Mi secca Io credo che ci sia Vole per cellulare Questo Non lo so Non credo Così action Sul cellulare Come cazzo Giochi Era dei tempi Di Vindictus Che non vedevo Un gioco Con Bel sistemino Di combattimento Veloce Semplice Possibilità catena Stiamo sfondando male Quando ti dici in catena Ecco L3R3 Ho fatto tutta una cosa Non mi stupirebbe Se ci fosse anche Per cellulare Facciamo così Vediamo Tra le altre cose Dobbiamo provare Dei streaming Per l'iPhone Vero Però ci giochi tu 23 euro No Oh no Ma parlano sempre Quello C'è per il cellulare No Eh Non ci ho detto È proprio questa Tipologia Ma il re-link No Granblue Fantasy Questo è il re-link Granblue Fantasy Re-link Non so manco Che la differenza Non so qual è Però ripeto Non è Ho trovato Eh come cazzo gira Questo qua E scusa Il Fantasy che fa Forse Perché questo è proprio Un altro gioco Da quello che ho capito Non è nemmeno un sequel Da quello che ho capito Perché io non ho mai giocato Granblue Vabbè Ha infatti Fantasy Il di me 14 Sì ma ripeto Non è una cosa Ah ok Simbatico Stava da qui Che c'è stava Il tesoro C'è un altro Eh no Ma lo devo ritrovare Vai Devi prenderli tutti quanti Tutti? Eh sì Esatto Devi saltare Quelli là Vabbè Ma non starà Qua Ecco qua Ti indicano Tutta la strada Metti i sorelli 17 Vai che mi sto avvicinando Da Lara 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 tre giorni dopo Era livello 100 Che c'è questo? Questo è tosto Questi qua non li ho mai visti Quelli di ghiaccio Li stai vedendo tu per la prima volta Io non li avevo mai visti Vabbè perché questo è un altro bioma Sì non ero mai Ma se l'ho fatto Ma se l'ho fatto Perché me lo rimette sempre? Forse perché devi fargli tutti quanti sti Sti cazza bubi Non so l'altra volta mi ci sono molto Ah vabbè Mi ci sono molto impegnato a prenderli tutti Perché pensavo che se no non appariva il Ah sì C'è la faccia dorata questo Un po' di soldi Quanto ha preso? Sta scritto 1899 rupie Non ho capito come avresti dovuto prendere quello sul precipizio Senza che ha scagato come uno stronzo Onestamente Ago di ghiaccio Un Mimic Un Mimic Sto facendo un Mimic in Blender Un Mimic Che ha fatto questo? Buonas Dias Ci sta uno qua in mezzo al party che è diventato potentissimo Chi è? Non lo so ma ce ne sta uno che fa male Ce ne sono due livello 18 Eugene e Lancelot Ci sta uno che fa veramente male Più degli altri insomma Penso sia Eugene Perché lui gli ho dato sempre il meglio Lui l'ho coccolato dall'inizio Devi pumpare tutti quanti Ma tanto non li usa No madonna ma non è manco un boss questo Ah no questo fa cagare Certi Ma come bemmo non serve Eh tanto poi non è che te lo porti Guarda questo Che culo Eh si si vedeva È molto giocabile Come dici tu giustamente Però Non lo so Non è il mio tipo Allora non ti piacerà neanche Diablo Diablo è meno giocabile di così Però è molto giocabile lo stesso Comunque è parecchio Ma perché questo è L'hanno strutturato da MMO Cioè L'hanno strutturato da MMO Ma è un'arena travestito Cioè proprio un'arena Vedi che te li porti Invece io Non so se sia un'arena Non è un MMO Perché parti da 4 Quindi puoi giocare con altre 3 persone massimo Perciò ti dico Mi ricorda Vindictus Molto action Non mi ricordo Cioè non mi ricordo la tipologia Vindictus era un MMO Eh però il party era sempre piccolo Cioè si giocava con gruppi molto piccoli Cioè mi sa che l'hub era condiviso da tante persone Ma partì in missione solo con 4 persone alla volta E c'era un sistema di combattimento molto simile a questo Cioè molto attivo Total action diciamo Ma quanto cazzo ci metta a ripiegare MMO è diventata horda capito Hai visto? Ci sta qualcuno che è fortissimo Ma è... C'è qualcuno che è fortissimo e non sono io Sì però è vero sono morti tutti insieme Sarà minorenne? No dai Gli stavo aspettando un amicatore Con l'ora di Rolano si è bella Eh? Questa è molto bella Giunge un soccorso Amica di Rolano Questa è amica del timoniere Sono arrivati i soccorsi E qui sono morti tutti Però togli La ciurma viene soccorsa Superiore del monastero Historiat Che dice Intenzionata a plagare la furia della divinità primordiale Intuendo l'incrollabile determinazione di Shona Che sei tu Acconsente tuttavia unire le forze Ah tutti insieme Andiamo Questa è una nuova PG praticamente Ah però mi sa che non è giocante Non credo che te la metti Tendenzialmente lei ti aiuta Eh però mi sa che non te la metti nel party Sarebbe la prima maggiorenne del party Andiamo Ha cercato di fare una roba tipo Vegetta di Dragon Ball Ma ho fatto Ah 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 Beh Bello dai Sì sì è giocabile Quanto costa? Il giusto Non lo so quanto costa Una sessantina di euro questo era Quanto? Eh quanto vuoi che costi questo? È un gioco piena Gran blue fantasy Un sessantina Insomma ragazzi Se vi piace spendere così tanti soldi È il gioco che fa per voi Questo però Cioè la piuma di grifone È il refinio standard Di grifone Devi vedere il refinio standard Perché è fondamentale Perché la piuma di grifone È stata Il refinio standard Non so dove si piglia Cioè l'ho già raccolto Ma non è che sono stato attento A chi me l'ha droppato Eh no Invece devi stare attento È la base questo Scheggia 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 della fermezza Vedi Sigilli Resistenza Esalcazzi È tutto una cosa Che ti sblocca un'altra cosa Dai Però La grafica è bellina Gira pure questo Il tostapane Ripeto Secondo me Poi arriverà pure su Sui cellulari È molto facile È un po' più complicato Di Genshin Impact Grafica A livello di Sì Un po' più complicato Però tendenzialmente C'ha C'ha un sacco di Cosine belle Ah è tutto texture painting Pure questo Cioè tutto È molto Colorato Artistico Diciamo Praticamente Historia della porti Per aprire le porte La schiava Lei apre le porte Vabbè ragazzi Lei apre le porte E noi ci vediamo Al prossimo gameplay In cui Reddits vi insegna Come si gioca a un JRPG E noi ci vediamo E noi ci vediamo